È stato approvato con una delibera dell'azienda sanitaria lo schema dell'accordo di programma tra Regione Abruzzo, Comune di Vasto e azienda sanitaria locale della provincia di Chieti per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. Si tratta di un passaggio necessario in vista della sottoscrizione del documento prevista per venerdì prossimo da parte del Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, del Direttore generale Thomas Scheil e del Sindaco di Vasto Francesco Menna. L'accordo serve a definire aspetti collaterali ma per niente secondari legati al nuovo ospedale come la variante al piano regolatore generale, la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie alla piena funzionalità del futuro ospedale San Pio. Il testo è stato redatto grazie al confronto tra i partecipanti al tavolo tecnico che si è riunito nelle passate settimane e che ha anche evidenziato l'opportunità di trasferire al Comune di Vasto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria finanziate dall'azienda sanitaria locale per circa 15 milioni di euro. La somma sarà coperta per 12 milioni e mezzo con fondi residui derivanti dall'anticipazione conferita dal Consiglio regionale e per la restante parte con un'anticipazione da parte dell'azienda sanitaria locale in attesa del finanziamento regionale.